c'era una volta in una foresta profonda un leone che terrorizzava tutti gli animali perché li uccideva non per fame ma per far loro del male gli animali stanchi della situazione si riunirono per vedere se riuscivano a fare qualcosa per cambiare il tutto andarono dal leone gli si inchinarono e gli dissero o potente leone tu ci stai uccidendo tutti indiscriminatamente ti proponiamo una cosa giornalmente ti manderemo uno di noi a scelta ma dovrai lasciare in pace tutti gli altri il leone accettò per primo toccò all'elefante poi ad una scimmia il terzo giorno fu il turno della lepre la lepre arrivò di fronte al leone in ritardo dicendogli sarei arrivata prima ma l'altro leone quell'altro della foresta mi ha trattenuto scusami per il ritardo il leone dimenticò il suo appetito e si addirò come c'è un altro leone nella foresta sì mio sovrano mi ha detto di dirti che appena ti incontra ti fa a pezzi il leone arrabbiatissimo decise subito di andare a cercarlo dimmi dov'è lepre mi devi dire dov'è la lepre lo accompagnò fino ad una radura dove c'era un profondissimo pozzo e poi gli disse indicandogli il pozzo è qui dentro il leone guardò nel pozzo e vide un leone cattivo che lo guardava e allora subito gli si buttò contro affogando miseramente fu così che gli animali della foresta furono salvati dalla piccola lepre